In questo momento, questa canzone appunto si chiamava diversity, in questo momento un po' delicato dove c'è una crisi globale e generale, perché non è un problema solo italiano comunque, un po' tutto il mondo sta andando a merda, quindi dobbiamo essere comunque tutti insieme riuniti, perché se ci dividiamo siamo fottuti, questo deve essere chiaro. Se cominciamo a chiudere le frontiere, se cominciamo a buttare la gente fuori senza motivo, per paranoio, per comunque siamo fregati, l'unione è sempre stata la forza e lo sappiamo all'inizio, altre soluzioni non ce ne sono, le diversità e le differenze creano la guerra e noi non lo vogliamo, per questo è che facciamo reggae, per questo è che voi venite ai concerti reggae, per questo è che andiamo in Giamaica e poi torniamo, se la stia è il Plessio A. Grazie Grazie Grazie